Continuiamo a ricevere segnalazioni circa i pericoli della viabilità urbana di Vasto. Ieri abbiamo parlato di alcuni incroci e di alcuni attraversamenti pedonali di Vasto Marina e della zona del quartiere San Paolo, in particolare dell'area degli istituti scolastici. Qui siamo a poche centinaia di metri di distanza, ci troviamo in via San Sisto, dove proprio nella giornata di ieri ci sono giunte ulteriori segnalazioni da parte di alcuni residenti della zona, circa la pericolosità della strada. Qui vedete un'auto che sta passando, c'è un restringimento della carreggiata da almeno un mese, dovuto probabilmente ad uno smottamento dei lavori che stanno eseguendo i tecnici. In particolare non solo questo è il problema principale, perché ulteriori restringimenti di carreggiata si registrano un po' su tutto il tracciato, dovuti alla presenza ad esempio di pali della luce che ingombrano la carreggiata già di per sé stretta e buia, perché poi i pali della luce ci dicono i residenti non sono in grado neanche di illuminare sufficientemente di notte questa strada e questa zona, che tra l'altro ha visto crescere fortemente gli insediamenti abitativi nel corso dell'ultimo decennio. Al di là dell'illuminazione, al di là della carreggiata stretta e dei diversi ingombri, ci viene segnalata anche la pericolosità dei due incroci. Quello di via incoronata, che spesso viene utilizzato per bypassare parte della viabilità urbana, e anche quello con la circonvallazione e con Corso Mazzini. Questo problema si riallaccia a quello di cui abbiamo parlato ieri, e cioè quello relativo al traffico ingolfato nelle ore di punta, in particolar modo all'uscita dalle scuole. Dunque, anche i residenti di via San Sisto chiedono, come quelli della non lontana via San Rocco, un allargamento della carreggiata, uno spostamento dei pali della luce, e dunque una messa in sicurezza, ove possibile, dell'intera zona.